hai visto quello che è bello che ci hanno regalato siamo pronti per 5 minuti qua al 16 scusi ma le persone stanno di sotto 16 perché li assicuro mio padre e mia madre stanno qua sotto con un cane sì 16 salve ma il secondo arriva ma io infatti non ho l'ansia è il suo altro tessista che mi ha fatto venire l'ansia perché mi ha telefonato dicendo io sto qui non c'è nessuno ma veramente era alle 5.10 alle 5 ma per Roma c'è un casino io poi non lo so che arriva la seconda macchina è sicura quale sarà il momento topico della giornata? il primo ballo oh che carina il sì no eh cominciamo proprio bene beh ma il sì io lo do per scontato ah beh pronta? si va si comincia adesso eh ti stanno chiamando adesso sono più calma io sono stata molto più agitata stamattina stamattina ero molto agitata perché non ero pronte o niente pensa le calze le ho comprate oggi ti agitano di più le calze il trucco la lacrimuccia che ti scenderà o i maritozzi le due il trucco il trucco bocca al lupo salve chiede avete un poccato non è un poccato o no questo è un poccato l'argo io sta un poccato è un poccato l'ascipro l'argo l'ascipro è un poccato l'ascipro stanno somma è un poccato in l'ascipro I don't really want to go anywhere else No, I don't really want to go anywhere else I don't really want to know anything else I've got this world I can see Just like me I want to thank Alessandro e Marcello We gave this honor that made me happy And it feels just like I'm walking through the mire I want to thank Alessandro and Marcello and Marcello and Marcello and Marcello. Thank you so much. Thank you. I don't really want to go anywhere else 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 Grazie.